Senza togliere ulteriore spazio, lascio appunto la parola al dottor Giuseppe Incarnato per il tema Il ruolo dei fondi di private equity nelle operazioni di crowdfunding per le aziende e ricordiamo Presidente e CEO dell'IG Investment Group. Prego Giuseppe e grazie. Grazie Gabriele. Alcune note proprio operative, prima di iniziare, facciamo in modo di dare una contestualizzazione. Troverete sulle poltrone un simpatico omaggio alimentare, non mangiatelo prima della fine perché poi con le mani sporche bagno uno solo e quindi questi sono famosi perché si appiccica il formaggio. Però di colore giallo in vista della festa della donna che arriverà domani, sono dei pratici piuttosto che qualcosa che assomigliasse alla mimosa, cioè c'è una pallina tonda che però si mangia in tutto sommato è un vantaggio. Ringrazio Gabriele ma in particolare ringrazio Accelera che mi ha invitato qui in Italia per portare un po' quella che è l'esperienza che già da un anno si sta affermando in maniera interessante sui mercati internazionali che è il superamento grazie alla tecnologia delle regole dei mercati regolamentati e l'entrata direi a gamba tesa da UK di un operatore importante come WeFunder che è uno specialista della raccolta di capitali diretti. Sì, questo secondo me è un tema abbastanza importante, quindi la normativa è appena stata varata, ci sono delle novità operative che impattano anche sull'industria dell'ecosismo bonus dei crediti fiscali. Io ho sempre il piacere di essere portato dalla mia struttura del IT ad argomenti d'avanguardia. Era il 2010 più o meno che parlavamo del Fondo Centrale di Garanzia quando il rifinanziamento, adesso è una realtà in questo paese prestare denaro con garanzia statale. Oggi siamo all'inizio di un processo nuovo molto importante di disintermediazione industriale dei capitali. Questo è una cosa che richiederà 3-4 anni di tempo, probabilmente se ragioniamo secondo i parametri precedenti, ma ci sono due grandi agenti in quest'era che sono la tecnologia e la velocità. Ciò che prima si realizzava in un mese, due mesi, tre mesi con i sistemi tecnologici di comunicazione si realizzano in un minuto. Questo è un tema che porterà il cambiamento fin dentro le nostre case. Questo è un passaggio che volevo fare. Naturalmente l'apertura di Gabriele è proprio nella logica che soltanto le nuove generazioni, e lui è uno dei giovani più importanti del settore dell'innovazione, possono interpretare il cambiamento. Il cambiamento che è multietnico, è multilaterale, è multibilaterale. Oggi siamo in un mondo dove in tre mesi sono cambiate tante cose. Quindi cercherò nel pochissimo tempo che ho a disposizione di fissare alcuni punti che poi sono di rinvia ad appuntamenti ai tanti operatori che saranno interessati da questa innovazione. Cambieranno le banche, cambieranno i fischi italiani e internazionali. Quindi la macchina fiscale degli stati va in concorrenza e cambierà anche il modo di ragionare in logica di investimento. Quindi volevo fare questo qua e ringraziare Gabriele che lui è l'innovazione. Lui, voglio dire, si cerca sempre di nascondersi mai tra i primi trenta Forbes, diciamo, all'ielo mondo. Preferisco fare l'intervento da qui, quello tecnico, e partire subito dagli elementi che cambieranno nel mercato dei capitali. Quindi dimenticate per un momento le esperienze, almeno in Italia, di Popolare di Vicenza, di Banca Popolare dell'Etrunione del Lazio, di Banca Marche, sono tante banche a cui sono stati affidati risparmi nel corso dei decenni e questi risparmi hanno provocato perdite ai risparmiatori. Con l'introduzione del regolamento dell'equity grand funding che ha Valenza europea, si apre la disintermediazione diretta. Quindi c'è una nuova licenza bancaria, perché l'equity grand funding interpretato secondo i nuovi regolamenti non è altro che una licenza bancaria che non fa più raccolta del risparmio, ma fa raccolta dei capitali. Questo cambiamento importantissimo determina la possibilità, grazie alla tecnologia, perché poi i regolamenti, il legislatore sconta un ritardo culturale sulle industrie, per cui quando recepisce la vecchia Europa, recepisce delle normative, non le fa guardando a chi già sta facendo queste cose, ma le fa pensando a chi deve controllare. Questo è un grande tema, un tema dove sfuggirà di mano l'equity grand funding inteso come sistema di raccolta di capitali diretti verso la democrazia finanziaria. Poi successivamente, meglio di me, ci saranno degli approfondimenti. Vediamo che cosa succede dal 2 aprile. Non ho messo prima aprile perché è Pasquetta e quindi c'è il casatello dei e allora dal 2 aprile sicuramente parte un nuovo mercato. Cosa parte? Sarà possibile per qualunque imprenditore raccogliere capitali fino a 13 milioni di euro. E c'è un identikit, perché la licenza di equity grand funding si spacca in due, vecchia Europa e sempre in Europa, perché Londra è un'Europa, anche UK. In UK l'equity grand funding è già operativo, alcuni numeri, WeFunder, piattaforma americana, o meglio impresa americana di raccolta dei capitali, in 3 mesi ha raccolto un miliardo di euro, 801 milioni. Ora considerate che la banca più aggressiva nel sistema bancario italiano nei primi 3 mesi ha erogato 350 milioni. E in Europa la licenza di raccolta dei capitali ha un limite nei 5 milioni. Quindi quando un imprenditore oggi si affaccia sul mercato e vuole raccogliere capitali, ha nel perimetro geografico del vecchio continente la possibilità di raccogliere 13 milioni. Ma chi è questo imprenditore? L'imprenditore deve essere un che avvia o deve rilanciare un'impresa che ha delle caratteristiche. Non può superare i 50 milioni di fatturato, non può superare i 43 milioni di attivi pariboniali e non può avere più di 249 dipendenti. Quindi significa l'intero mondo. Ma andiamo a guardare i numeri, perché i numeri sono importanti. Cosa succede solo in Italia? Guardiamo solo in Italia. Chiudono 28 mila aziende all'anno. Questi 28 mila aziende all'anno chiudono per i motivi più disparati. Ci sta la microimpresa che chiude perché non riesce ad avere il prestito per rinnovare il bancone del bar. Ci sta quella che non riesce a pagare le tazze. Ci sta un sistema dove industrialmente funziona tutto, ma manca il capitale. E vediamo se c'è il capitale. Il capitale è certo che c'è. È molto interessante l'analisi che ha fatto il Corriere della Sera lunedì scorso sui bacini di capitali che stanno cercando destinazioni. In Italia ci sono 52 mila miliardi di euro di risparmio gestito. Ci sono mille miliardi di gestiti nazionali, quindi affidati alle banche dove normalmente il risparmiatore non sa che succede. Ma ci sono 800 milioni di euro affidati a fondi di investimento sempre delle banche. E quelli sono quei risparmiatori dormienti. ci sono anche 2.500 miliardi di BTP valore perché gli stati oggi drenano capitale. Però in realtà c'è una massa di denaro che cerca destinazione. E questo termometro è dato dal fatto che questi risparmiatori in cerca di destinazione investono un po' alla cieca nel mondo delle criptovalute. E vedete qual è il principio diversificazione. A do coglio coglio, perché poi la verità è il tema della scommessa. Però è chiaro che ci sono 3.000 miliardi di euro di cryptocurrency in termini di asset che cercano destinazioni. Direi anche che cercano metamorfosi. Perché dove stanno? Con buona pace per panetta che a volte dirigenti e funzionari della vecchia Europa sono decisamente capaci di esprimere tenerezza nel mercato dei capitali. Quando stavano a discutere del destino nefasto delle criptovalute. Penso che ognuno di voi quando apre il giornale vede questo Bitcoin che sale, 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 sale. Un solo Bitcoin vale 67 mila dollari. E allora cosa sta succedendo? Sta succedendo che si sta trasformando il capitale. Ci sono delle piazze mondiali dove il capitale è in fuga. Ora considerate che nella vecchia Europa tra la somma tra Olanda, Belgio e Cipro dà il totale della raccolta di denaro e di liquidità superiore a tutto il sistema bancario europeo. Limassol, che per alcuni è già cosa nota, è la nuova capitale finanziaria del Medio Oriente. Ma se guardiamo un po' più avanti, Hong Kong, 5.600 aziende che finanziarie e raccolgono capitali hanno una massa di liquidità che è 40 volte la Repubblica di San Marino, 20 volte quella italiana. Stiamo parlando di numeri importanti. Ora, da Hong Kong un po' tornano in Europa, magari con l'azione di qualche fondo di private equity aggressivo. E alcuni se ne vanno nella nuova Monte Carlo dell'Estremo Oriente, Singapore. Però sicuramente stiamo parlando di una massa di capitali che sta cercando destinazioni. E quindi il mondo dell'equity grand funding, e qui naturalmente non posso che tagliarlo per quello che è l'expertise e il posizionamento di G-Group per quanto riguarda il mercato. Noi siamo specializzati nei distressi d'asset e questo strumento è incredibilmente importante per la sua capacità di poter presentare progetti di rilancio a livello mondo. Quindi la capacità di costruire e di validare i progetti imprenditoriali. G-Group è leader nell'elaborazione di sistemi di intelligenza artificiale per la valutazione dei progetti e di presentarli a un pubblico molto variegato dove la percentuale media di investimento non supera i 1000 euro, ma stiamo parlando di economia reale. E questo è un tema importante che oggi ha delle bitcoin, probabilmente ha interesse a investire nell'azienda sotto casa trasformando i bitcoin. Ma ci sono delle caratteristiche del mercato dell'equity grand funding che fanno delle novità assolute. Nell'abito delle aziende in crisi, certamente il rilancio di un'azienda fino a 13 milioni di capitali raccoglibili, quindi 8 milioni dalle piattaforme o meglio dalle imprese che raccoglono in UK e 5 milioni dall'Europa, con 13 milioni di euro si possono fare delle capitalizzazioni importanti, correggendo naturalmente l'errore imprenditoriale che ha portato in crisi l'azienda. Avendo una potenza di fuoco che deriva anche dalla normativa di competizione che gli stati europei si sono dati, oggi quando vengono investiti i capitali nell'equity grand funding automaticamente l'investitore ha un credito d'imposta. Attenzione, un credito di imposta trasferibile con le stesse caratteristiche di quelle dell'ecosismo bonus, perché non si trasferisce la moneta fiscale ma si trasferisce direttamente la quota della società di capitali che viene acquistata, perché la piattaforma è totalmente dematerializzata. Questa è una novità assoluta. Poi fra 4 anni il lennissimo Ministro delle Finanze scoprirà che questo regolamento prevede un trasferimento così secco, ma era ormai un quinquennio fa che ci occupammo della politica industriale per rilanciare l'industria edilizia in questo Paese con l'ecosismo bonus. Questa è una novità importante, dove il credito d'imposta che va a maturare per ogni intervento può arrivare per una persona fisica fino a 300 mila Euro di credito d'imposta, trasferibile. E per un'impresa che investe in un'altra impresa, quindi un fondo di private può arrivare fino a 1.800.000 Euro di credito d'imposta trasferibile. Quindi l'opportunità di poter attivare un sistema di capitali efficienti direttamente proponendosi al mercato, al singolo investitore, sulla base di una redditività che è insita anche nella produzione di credito d'imposta, penso che possa agevolare la costruzione che noi abbiamo pensato ormai già da qualche decennio e che stiamo applicando in sei Paesi europei e che dal 2 aprile ci vedrà protagonisti in Italia, con la costruzione appunto di un agnuco che si propone al mercato per rilevare e rilanciare le aziende in crisi. Naturalmente questo strumento ha un effetto anche sul consolidamento dell'ecosistema produttivo, perché questi benedetti 13 milioni da riservare alle aziende che fanno 50 milioni di fatturato, 43 milioni di asset, 249 dipendenti possono essere moltiplicati. Immaginiamo la crisi del distretto automotive di Melfi, sono 500 aziende che vanno in crisi, queste 500 potrebbero tranquillamente rilanciare con una raccolta cada uno di 13 milioni di Euro. Quindi stiamo parlando di tanti tanti soldi che vanno a rinnovare la capacità di produzione e quello è un modo per gestire la crisi, perché l'imprenditore, se solo è sfortunato naturalmente, può essere aiutato da fondi specializzati per trovare la possibilità di rilanciare la propria impresa. E guardate che il mercato, il mondo dell'equity grand funding è qualcosa di veramente incredibile, perché è democrazia diretta. Quando un imprenditore vuole reinvestire, rilanciare sulla propria impresa, va su questa piattaforma. Sono 100 imprese che hanno avuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di equity grand funding in Europa, quindi sono 100 licenze bancarie per la raccolta di capitale, perché oggi le banche si spaccano, sono le banche che raccolgono risparmio e ci sono le investment banking. Vediamo anche in Italia come si stanno attrezzando. In questo meccanismo l'imprenditore ha la possibilità di presentare il suo progetto di rilancio in maniera ampia, in maniera assolutamente trasparente, in logica multilingue e oggi abbiamo anche la GINAI che aiuta a generare di meta investor, di meta angel investor che possono presentare in qualunque lingua serva l'attrazione di capitali. Guardate che investitori estoni sono oggi presenti in un'azienda di telecomunicazioni che ha fatto un equity grand funding qualche giorno fa, perché erano passati otto mesi che non si sapeva chi se la doveva comprare, a un certo punto di vista, facciamo un seguito di grand funding, ci buttiamo tutti dentro e la controlliamo. E questo è un tema decisamente importante. Noi stiamo parlando di un nuovo settore di raccolta di capitali e di rilancio di imprese e parliamo di prestiti, perché di fatto il capitale di rischio che viene emesso in termini di strumenti partecipativi, essendo molto frazionato, di fatto il singolo azionista non ne controlla la gestione e allora a questo punto quelle aziende vanno accompagnate sicuramente da tre grandi elementi, un fondo di private tecniche, è ovvio sono il famoso acqua frescaio, quindi deve essere l'acqua necessariamente buona, quindi noi guidiamo i processi, lo stiamo già facendo, ma poi accompagnati da grandi studi internazionali di legal advisor, perché c'è la necessità di avere degli specialisti realmente presenti su determinati paesi, specialisti legali che in Italia non ci sono, tranne probabilmente una realtà con la quale intendiamo stringere un accordo strategico, perché c'è da portare la cultura dei blocchi in termini di capitali in maniera chiara. Oggi siamo in presenza di, nel giro di due mesi, blocco occidentale, blocco orientale, resto del mondo che pesa, nel giro di due mesi la moneta, noi siamo cresciuti, penso ormai ognuno di voi, forse probabilmente non Kishore, ma siamo cresciuti con il dollaro statutinezze come dogma, nel giro di due mesi il 25% degli scambi monetari in mondo viene realizzato con altre monete e per noi è uno shock, è come passare dal dual standard alla non convertibilità. Questo che cosa dice? Che siamo di fronte a una partita multipolare che possiamo soltanto vincere, in una logica positiva, giocandola multipolare. Quindi la gestione vista da noi di raccolta di capitali in equity grand funding che in Italia portiamo direttamente su due piattaforme. UE sono 100 autorizzati nel mercato europeo, quindi 100 imprese che possono raccogliere capitali a cui noi ci rivolgeremo, ci rivolgeremo alle migliori, voglio dire alla migliore in Italia probabilmente sulla quale confidiamo e partiamo contemporaneamente e simultaneamente anche con l'equity grand funding attivo negli UK. Quindi la possibilità per qualunque impresa italiana di rilanciarsi raccogliendo 13 milioni di euro di capitale. E questo è sostenibile nel lungo periodo. Questo è un altro aspetto importante perché il rilancio delle aziende in termini di produttività pone un tema. Noi dobbiamo cercare di produrre finché si può. Perché l'erba del vicino è sempre più verde. Aspettiamo di fare l'acciaio. Lo fanno quelli della Croazia. Poi dopo alla fine ci troviamo in pieno covid dove non sapevamo fare le mascherine. E dove abbiamo pagato 10 milioni di euro a un giornalista della RAI per introdurci al fabbricante cinese. Questa è una cosa un po' ridicole. Però questo fanno capire che prima di fermare le produzioni ci dobbiamo interrogare sulla capacità e l'attrazione e l'attrattività, che sono due concetti diversi, sulle comunità territoriali. Un concetto molto importante che spero venga affrontato dopo. È chiaro che l'equity grand funding, il frazionamento della raccolta di capitali, non è un cambio di visione. Non c'è la piramide del capitalismo che si inverte. Quindi non ci sta un nuovo comunismo che arriva. È un apporto di capitali frazionati dove in realtà il capitale di rischio viene vissuto come risparmio. In realtà è una trasformazione tra la gestione del risparmio dei fondi azionari che oggi si fa nelle banche e non so quante ne rimarranno in piedi nel giro di sei anni. E noi ne abbiamo viste fallire 32 in Italia nel giro di due anni. Questo però è un meccanismo dove il risparmiatore investe direttamente nell'azienda che conosce. Ed è chiaro che se conosce il lattaio sotto casa, il supermercato sotto casa, prestereste denari a imprenditori che frequentate ogni giorno? La risposta è sicuramente sì perché altre realtà vivono del capitalismo diffuso da centinaia di anni, così come alcuni settori. Cosa provoca l'equity grand funding? Quando devi capitalizzare un'azienda in crisi allarghi la platea ad investitori internazionali, anche in logica squisitamente simbolica. Allarghi a quelli strategici, allarghi ai dipendenti dell'azienda. Chi non sosterrebbe la propria azienda in un momento di crisi e rilancio chiaro? Tenendo sempre presente che non esistono imprese senza imprenditori. E non ci si può inventare tutti i giorni. Il rinnovo della vision però, grazie alla raccolta e leggo di grand funding, pone una responsabilità sociale. Da primo gennaio 2025 sarà obbligatorio l'SG, bilancio SG, una enorme infrastruttura burocratica che non servirà a niente se non viene vissuta in una logica di produttività e redditività. E consolidamento nell'ecosistema più ampio è fondamentale. Oggi ci sono troppe aziende che pensano di lavorare in una logica di concorrenza distruttiva, ma invece la concorrenza è cooperativa, la concorrenza è ecosistema, la concorrenza è posizionamento. È inutile fare 100 auto, 100 marche diverse. Beh, facciamo una, ma che è fatta bene. E questo è sicuramente un patrimonio di capitalismo sociale che ci arriva con molta ignoranza, direi, dai nuovi mondi, perché i nuovi mondi non sono. Quindi la cultura cinese ha 3.000 anni di storia, con l'indiana qualche millenio in più. Quindi abbiamo la necessità di imparare che altri mondi hanno avuto un'evoluzione velocissima grazie anche alla tecnologia. Questa è la nuova equazione del rilancio delle imprese in crisi. Prima quando un'azienda dava in crisi, ora considerate che chiudono 28.000 aziende all'anno. I tavoli ministeriali o regionali delle aziende in crisi sono in totale 240. Quindi 240 su 28.150. Vi renderete conto di quante imprese in crisi chiudono perché non c'è nessuno che le assiste. Né si può pensare al nuovo regolamento della gestione della crisi perché è visto in una logica legale, non una logica industriale. Oggi quindi partiamo da un intervento pubblico per il rilancio più i fondi di pre-atteguiti. I fondi pre-atteguiti hanno un ruolo fondamentale. Negli ultimi due anni non c'è stata crisi di impresa che non è passata tramite i fondi. Penso a Staldi, una delle più grandi, ma penso alla crisi del comparto della nautica, dell'aeronautica, del comparto dei call center, alla ristrutturazione del settore sanitario. Centinaia di aziende in crisi, incluso all'ilva di Tarant. Si allarga quindi la possibilità che di fronte dei paradigmi che fanno dell'intervento pubblico, dei fondi pre-atteguiti, della legge marcora per le piccole cose, che è una legge di grande successo, ma 148 interventi in 12 anni, quando ne chiudono 28.000 stiamo parlando del nulla. Oggi l'equity grafanti consente di moltiplicare la capacità di intervento, perché all'interno dell'equity grafanti ci possono stare tutti. Ci può stare la regione Umbria che investe 1.000 euro in una campagna di rilancio all'insegna del rilancio dell'economia di quell'impresa, ci possono essere altri fondi, ma ci possono essere anche altri concorrenti, quelli lungo la filiera, i dipendenti, i manager. Quindi è una nuova soluzione che aiuta a mantenere capacità produttiva e realizzativa su questo Paese. E naturalmente non potevo che lasciarvi su un tema attuale, che spero poi venga ripreso nell'ambito delle interviste, perché a volte gli interventi di rilancio, quelli che appaiono complicati, in realtà possono essere semplici, se però si ha la competenza, che noi spesso eticotiamo i politici come gli amministratori di condominio, quindi sono sempre ladri e non capiscono niente, non è sempre così. Ci sono delle interrogazioni che vanno fatte, ma è chiaro che ci vuole competenza. Ora, di fronte alla crisi dell'invalidità, abbiamo deciso che non vogliamo produrre più acciaio, sbagliato, però perché sbagliato? Non perché si dovrebbero produrre 6 milioni di tonnellate al giorno che è disastro ambientale, questo ormai l'abbiamo deciso, ma se noi consumiamo acciaio, se noi consumiamo quel prodotto e soprattutto lo vendiamo a chi poi dopo ci dà il prodotto finito, ci stiamo comportando come i Paesi sottosviluppati, le famose ragioni di scampio, quindi io ti do la billetta di acciaio e tu mi ritorni l'autobus. Ora, in realtà l'idea precisa era quella di portare produzioni di un certo tipo, l'unica industria che in questo momento è fiorente a me, e per questo vedete il nome di Automelara, però se considerate che l'Italia produce, o meglio, ha un parco automezzi 100.000 autobus all'anno, o PNRR, tutti prodotti dall'Iveco, e l'Iveco non è Stellantis, quindi vi metto in evidenza gli errori strategici, che verrà inutile chiedere a un francese di Stellantis di mettere le produzioni. Beh, Iveco è di proprietà di Exor, che ha avuto due anni fa 6 miliardi di garanzia dalla Sace per poter fare una emissione obbligazionaria, e è chiaro che è un mercato, quello degli autobus pubblici, quello dei vigili del fuoco, quello dei carri armati a riete, perché non vedo perché dobbiamo pagare 12 miliardi di euro per comprare i Leopard dai tedeschi e la loro economia diventa la terza economia mondiale superando quello di Giappone in un anno, in un anno, e noi invece dobbiamo tenere 15.000 dipendenti dalla città che sta morendo, perché non siamo capaci di fare push sull'unico asset che c'è, che è il nostro mercato interno. Allora è chiaro che dobbiamo trovare la capacità di continuare a produrre e su questo mi auguro che questo nuovo strumento di raccolta di capitali possa aiutare la media impresa. Ci sono 4 milioni di imprenditori in Italia, il nostro tessuto è molto particolare, poco concentrato, molto frazionato, ma anche molto vivace. 28.000 ne muoiono, 31.000 ne nascono, quindi il bacino di utenza di questo mercato di equiti granfanni che supera i 60.000 nominativi all'anno. Grazie.